Prosegue la marcia in vetta alla classifica del Girone B di prima categoria dello scandale che andando a vincere a San Mauro Marchesato con il secco risultato di 3 a 1 mantiene appunto la testa della classifica e tiene a distanza di due punti il Caraffa vittorioso in casa nella partita contro il Rocca di Neto. Una partita che lo scandale ha fatto subito sua dall'inizio riuscendo a segnare con Martino Carvelli e Aracri rendendo vano il rigore di Palermo per quanto riguarda la squadra di casa. Vittoria quindi dicevamo importante che fa seguito a tutti i risultati fatti finora dallo scandale che è una delle due squadre insieme appunto al Caraffa non sconfitte ancora in questo campionato, 6 vittorie e 3 pareggi quindi la dicono abbastanza lunga su quelle che possono essere le intenzioni della squadra crotonese di giocarsi questo campionato.